Massimo Bitonci, il ministro Cancellieri ha sbagliato oppure no? È clamoroso ed incredibile. In qualsiasi altro Stato d'Europa e non solo, un ministro che si comporta in un modo così si sarebbe già dimesso. Però questa è l'Italia, è l'Italia dei ministri che hanno ruoli e intrallazzi con i potenti, questa è l'Italia dove un governo Monti aveva al suo interno banchieri, funzionari e rappresentanti della massoneria italiana, per cui non ci stupiamo di niente. La Cancellieri fa parte di quei poteri forti, è prefetto, non doveva assolutamente avvicinarsi e telefonare per far scarcerare una signora, per carità, una signora che era in prigione, che era in difficoltà, però come ce ne sono tanti in Italia, ci sono 60.000 carcerati, e la maggior parte di questi vivono in condizioni difficili, noi diciamo sempre che bisogna risolvere il problema delle carceri costruendo le carceri e non certamente facendoli uscire con indulti o come ha fatto la nostra ministra con la signora Ligresti.